Dopo la richiesta di chiarimenti giunta da Roma cresce la preoccupazione tra i cittadini di Scafati circa il destino del Mauro Scarlato a rassicurare la popolazione il governatore Stefano Caldoro e il manager dell'ASL Antonio Squillante che oggi erano in città. L'ospedale di Scafati De Luca chiede di richiuderlo, ha scritto nel suo programma che bisogna tornare al decreto 49, quello del centro-sinistra In decreto 49 c'è scritto che l'ospedale di Scafati si deve chiudere, tant'è vero che io l'ho ereditata questa chiusura però abbiamo evitato che fosse realmente chiuso, cioè chiuso materialmente, però si stava oggettivamente indebolendo Oggi invece l'abbiamo rimesso nella rete, quindi vuol dire che ora ricrescerà un'altra volta ma soprattutto rimane aperto cioè noi abbiamo riaperto di fatto, salvato l'ospedale di Scafati e De Luca lo vuole richiudere Questa è la verità, perché queste sono le verità delle carte, perché ogni tanto sento tante bugie ma non portano mai una carta cioè loro non portano mai un documento a sostegno di una linea, questa è la cosa che mi preoccupa La richiesta di chiarimenti non riguarda la rete ospedaliere, quindi non riguarda nessuno dei sette ospedali quindi compreso Scafati, che noi abbiamo salvato La questione dell'ospedale qui è molto sentita, lei è stato praticamente bloccato per strada da cittadini che chiedono notizie su questa presunta bocciatura del piano ospedaliero Ma non mi risulta che ci sia stata nessuna bocciatura, bisogna evitare di fare cose, di dire cose non soffragate da documenti addirittura è circolato un documento che poi è risultato non veritiero, falso, che faceva delle osservazioni Al momento il documento è sotto osservazione dell'Agenas che lo sta valutando, vagliando, sicuramente proporrà degli aggiustamenti però da qui a dire che c'è stata la bocciatura credo che ce ne passi molto quindi i cittadini Scafati devono stare certi di una cosa, che i conti dell'ASL, Salerno e della Regione Campania sono in ordine che i presupposti per presentare il piano ci sono, che la volontà politica c'è e che quindi nel momento in cui il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute approveranno questo piano noi potremo immediatamente mettere mano per la sua apertura del pronto soccorso in quanto credo che effettivamente ormai oltre ad averne bisogno ci siano le condizioni quindi credo che questo debba essere un elemento da tenere fortemente in considerazione Grazie a tutti